Cambiano sempre di più i rapporti tra istituti di credito e clienti. I canali di distribuzione si aggiornano con un ruolo sempre maggiore degli intermediari che avvicinano le esigenze delle famiglie e delle imprese con l'offerta del mercato. Di questo si è parlato nella due giorni Credito al Credito 2014 promossa dall'Associazione Bancaria Italiana. Gli intermediari possono rappresentare una rivoluzione nel credito, ma la vigilanza va sempre tenuta alta per evitare frodi e distinguere i consulenti professionali da quelli improvvisati. Tra le criticità denunciate, quella dei furti di identità da parte di chi cerca di ottenere credito spacciandosi per altri. Un fenomeno cresciuto con la crisi e contro il quale il Ministero dell'Economia sta mettendo a punto un sistema di prevenzione che incrocia le banche dati del Governo, Agenzia delle Entrate ed enti previdenziali. Fino ad arrivare a forme di abusivismo nell'intermediazione, denunciate in primis dalla FIAIP, la Federazione degli Agenti Immobiliari, che con la sua Auxilia Finance è uno dei principali intermediatori del credito in Italia. Ne ha parlato Samuele Lupidi, Delegato Nazionale Rapporti Istituzionali FIAIP e Consigliere Delegato di Auxilia Finance. È chiaro che ci sono ancora delle criticità, soprattutto nel mercato del credito, quando in effetti ancora dopo due anni dall'entrata in vigore della normativa ci sono delle problematiche da risolvere, una per tutte, ad esempio la gestione di chi in modo strumentale potrebbe segnalare i mutui alle banche o agli intermediari del credito, cosa che oggi la legge non consente. Grazie. Grazie.